Unire il mondo della cultura a quello della tecnologia, il tutto per raccontare la città e portare fano nel mondo. Nasce il progetto Fuori Sipario. Al suo interno arte, spettacolo, storia, ricerca, ma anche tecnologia che verranno illustrate in dieci appuntamenti che si terranno proprio dal Teatro della Fortuna e che sarà possibile seguire in streaming. Questo progetto si chiama Fuori il Sipario per due motivi. Fuori perché quando finisce uno spettacolo e gli attori sono stati bravi, il pubblico è piaciuto. Fuori fuori è l'applauso che dimostra questo affetto. E Fuori il Sipario perché in questo nostro Sipario sono raffigurati i luoghi identificativi della città e noi vogliamo portarlo fuori virtualmente e andare in quei luoghi per poter poi conoscere meglio la nostra città. Il Sipario ha tante cose in particolare e vedrete ci sono dei gruppi di lavoro e noi vi terremo informati. Intanto con delle conferenze streaming ogni 15 giorni, poi quando si potrà tornare in presenza anche questo. Tre fili conduttori, Poletti, Francesco Grandi e Vitruvio. Vedete nel Sipario è raffigurato il Grandi vestito da Vitruvio, quello con l'abito rosa e ha in mano una pergamena. Proprio quel particolare lì, ingrandito del lavoro che ha fatto la Politecnica delle Marche, ci ha disegnato una basilica. Ecco, questa è una delle tante cose che abbiamo scoperto e che vogliamo condividere con voi in un percorso che andrà avanti per il tempo. Vogliamo ringraziare tutti quelli che stanno vicino, il Comune di Fano perché è il nostro punto di riferimento, ma anche la Banca di Credito Cooperativo, la Fondazione Cassari di Risparmio, l'ASET e anche tutti gli sponsor.